Il mio lavoro nasce dalla riflessione su un'idea che oggi va di moda, l'idea che chi è cattivo è fico, cioè piace. Piace forse perché essere individualisti, egoisti, arroganti è comodo, è facile, basta pensare solo per se stessi. Più difficile perché frutto di un cammino più lungo che richiede immaginazione e coraggio della responsabilità è riuscire a pensare anche per gli altri e mostrarsi gentili nei loro confronti. In effetti la gentilezza è un atto rivoluzionario perché è inattuale in una società ipercompetitiva come la nostra. Ian McLaren, che è uno scrittore scozzese, diceva «Sì, gentile, perché ogni persona che incontri sul tuo cammino sta combattendo una battaglia di cui tu non sai nulla». Molti però credono che per essere gentili basti dire «Grazie, prego, scusi tanto, mi dispiace». Queste parole vanno bene, ma sono formalità. Essere gentili non è solo questo, è molto di più. La vera gentilezza richiede coinvolgimento e coraggio. Etty Lesum, nel 1942, lei a quell'epoca aveva 28 anni, un anno prima di essere deportata ad Auschwitz, scriveva «La gentilezza è un valore sommesso e discreto, una forma di coraggio senza violenza, una forma di forza senza durezza e per opporsi alla barbarie bisogna essere forti». Ma di quale coraggio stiamo parlando? Per esempio del coraggio di stare dalla parte di chi per discriminazione viene escluso, preso in giro, rifiutato, mandato via, cioè considerato un rifiuto, uno scarto, testimoniandogli la nostra vicinanza. La gentilezza riguarda anche il modo con cui noi trattiamo il nostro mondo, che è fatto di piante, di animali, di terra, di acqua, di aria. Ma come avvicinare i bambini a questi temi? Il modo migliore è quello delle storie e dei racconti. È una storia che si inventa anche facendo delle ipotesi. Fare un'ipotesi è come gettare una rete nel mare. Tu la getti e prima o poi trovi un pesce. Fare un'ipotesi fantastica per Gianni Rodari vuol dire rispondere alla domanda che cosa succederebbe se? Per esempio se una mattina io diventassi un pesce? O se il semaforo avesse la luce blu? Se in un paese di maleducati un bel giorno nascesse una bambina gentile? Beh, proprio a quest'ultima domanda io ho cercato di rispondere in rima nel volumetto Musilunghi che l'editrice Zeffero mi ha gentilmente pubblicato. Grazie